E a Palermo cittadini ed istituzioni ricordano il giudice e i cinque agenti della scorta, la legalità si costruisce insieme, dice il ministro dell'interno Lamorgese. Nei verbali desecretati dal CSM il racconto di Maria Falcone. Paolo mi disse, sto per trovare molto di più di Tangentopoli. L'inviata Giovanna Pucet, poi Alessandra Barone. La forza meritando i ragazzi che sono rimasti qui, i ragazzi del giudice Borsellino, perché loro mi hanno tirato fuori dall'auto che stava prendendo fuoco. Forse io lo so, non sarei uscito da quell'auto. Antonino Bullo si rivolge ai suoi cinque colleghi della scorta, ridotti a Brandelli, in via d'Amelio assieme al giudice Borsellino come se fossero ancora vivi. Sa cos'è l'inferno perché lo ha visto con i suoi occhi qui, 28 anni fa. Stava spostando l'auto di scorta del giudice quando la bomba esplose. Lo Stato doveva fare di tutto per proteggere la persona del giudice Borsellino. E invece così non è stato. Non bisogna perdere la fiducia nelle istituzioni, gli dice il ministro per il Sud, Provenzano, presenti alle commemorazioni in questa strada, oggi svuotata dall'emergenza Covid, e dove ogni anno si scatena il dibattito tra chi sostiene, che sa meglio abbandonare il rito della memoria, e chi no. Io potrò seppellire il mio fratello soltanto quando gli potrò mettere tra le mani un'agenda rossa, quella agenda rossa che gli è stata sottratta qui, in questa strada. Arriva uno dei figli del giudice Borsellino, Manfredi. Con lui ci sono i nipoti a raccogliere l'eredità di uno zio che non hanno nemmeno conosciuto. Ci siamo abituate talmente tanto a sentire queste storie familiari che quasi ci sembra di averlo conosciuto. Quattro processi e due certezze stabilite da sentenze. Quello di Via D'Amelio fu uno dei più grandi depistaggi giudiziari della storia d'Italia e Cosa Nostra non fu l'unica responsabile. 28 anni dopo non si sa ancora chi volle accelerare e perché l'uccisione di Borsellino.